Sapete che questo video sarà molto noioso e pieno di secondo me impliciti. Se siete fra i pochi che mi seguono, saprete che io sono uno che va abbastanza dritto, sono uno che ti dice la sua, non va a dire lui ha detto questo, lui ha detto quello, vado abbastanza dritto per la mia strada, un po' perché sono pigro, un po' perché non ho il tempo, un po' perché non voglio prendermi la scena attraverso i video degli altri, sono abbastanza puro da quel punto di vista, non faccio mai cosa del genere, soltanto che ieri ho visto l'ultimo video di Sinergo e ci sono state delle cose che ho concordato, con cui ho concordato, ci sono delle cose che mi hanno un pochino triggerato, un pochino preoccupato e anche spaventato nel discorso di Sinergo. E quindi vorrei usare questo video un po' per rispondere alle domande che Sinergo pone nel video e un po' per, non voglio dire la mia perché mi metto al suo stesso livello e lui è nettamente più bravo di me, ha un pubblico meraviglioso, ha un modo di fare meraviglioso, è uno dei divulgatori che io seguo con più passione ed è anche un grandissimo youtuber secondo me, proprio anche con gli argomenti che porta. Perciò non voglio dire, voglio rispondere, voglio amplificare il discorso che ha fatto lui, voglio rispondere alle domande che pone nel video perché li sono aperti a tutti e voglio un pochino però andare ad amplificare alcuni discorsi che fa e che secondo me, proprio perché lui porta avanti questi discorsi in base a un pensiero a cui vuole portare lo spettatore, si dimentica o comunque non dice cose che secondo me sono invece molto importanti da dire in questo percorso. Quindi vado contro tutto quello che sono io e parlo di un argomento non che piace a me, in senso sì, è un argomento che piace a me, ma non parlo di un argomento scelto da me ma parlo di un argomento scelto da qualcun altro ed è una cosa che per me è strana, qualcuno dirà che lo faccio per avere un più di visualizzazioni a me sinceramente le visualizzazioni non mi hanno mai importato niente io vi porto il video, lo porto anche fatto male perché io comunque li faccio tendenzialmente male i video però lo faccio più per me per sfogare quello che penso io di qualcosa che è per avere effettivamente poi un ritorno. All'inizio, devo essere sincero, lo facevo per cercare di avere un ritorno poi ho capito che era più uno sfogo mio che avere un ritorno da un punto di vista mediatico. Quindi cosa dice Sinargo? Sinargo fa un discorso sull'arte cinematografica in generale e su quanto secondo lui quest'arte sia bistrattata. Per farlo prendo un capo ispiratorio che è il libro all'inizio e questo mi ha molto triggerato, fatto apposta per far triggerare e per far seguire il suo pensiero, una cosa che ci sta. Parte con un aneddoto di lui che sta leggendo sotto un post di Facebook due personaggi che se le stanno dando verbalmente, neanche fossero a un talk show. Uno dei due di questi macisti da tastiera è anche leggermente o vagamente o molto, adesso non mi ricordo, sgrammaticato e l'altro, cosa che a noi, all'uomo occidentale piace tantissimo, l'uomo moderno occidentale piace tantissimo, lo attacca immediatamente sulla forma e non sulla sostanza, lo attacca immediatamente sulla forma, su quello dico io, lo attacca immediatamente sulla forma e gli dice che è ignorante, non deve stare lì sul web, ma deve aprire un libro. E Sinergo proprio si attacca a questa frase, devi aprire un libro. E a devi aprire un libro fa un ragionamento che serve sempre per portare acqua al suo mulino, nel senso a portare lo spettatore sempre più dentro al video, ma che a me mi ha lasciato un attimo intimorito e un po' perplesso. Dice che nel 2022 è un po' da arretrati identificare la cultura coi libri, ovvero identificare il nostro apprendimento massimo nella lettura. Ok. Che è vero, noi, la maggior parte della gente, nella lettura identifica la massima potenzialità di apprendimento. Se io leggo un libro, non c'è altro mezzo più potente del libro per farmi un'idea su un qualcosa. E lui dice, non è vero. Non è vero. Dice che anche il parlare con una persona più grande di te, parlare con una persona che ha 20, 30, 40 più anni di te, è cultura. E qua io ho pensato. Cioè, sul suo pensiero io mi sono fermato a pensare. E ho detto, sì, è vero questo, però dobbiamo per forza dirlo? Cioè, siamo arrivati al punto che noi dobbiamo dire una cosa del genere. Non è abbastanza ovvio una cosa del genere? Che parlare con uno più grande di noi può essere comunque fonte di cultura? Dobbiamo per forza dirlo? Cioè, gli uomini antichi, i grandi uomini antichi, ma anche gli uomini grandi, gli sconosciuti uomini antichi che stavano intorno al fuoco e si raccontavano storie, facevano esattamente questo. Gli anziani raccontavano ai giovani di come si caccia il cervo, di come si pesca il tonno, di come si ala la terra, di come si coltiva la vite. Facendo questo, cosa facevano? Creavano una tradizione, creavano una cultura di quel gruppo. Quindi quel gruppo avrebbe cacciato il cervo in quel modo perché era il modo più efficace che gli anziani di quel gruppo avevano trovato. Fino a quando, ovviamente, qualcuno avrebbe trovato un modo diverso di cacciare il cervo e allora lì ci sarebbe stato uno sviluppo della cultura. Quindi tutto uno sviluppo della cultura orale. E va bene, Io so che io e Sinergo lo sappiamo, ma è veramente così per tutti? Cioè, la cosa che mi preoccupa a me di questo discorso è che Sinergo ha dovuto dirlo perché si preoccupa che la gente non lo sappia e se la gente non lo sa, è grave. E questi discorsi pochi che mi seguono lo sanno perché io quando piantavo zucchini e patate chiedevo a mio padre qual era il miglior modo per farlo quando volevo imparare a scrivere una sceneggiatura avevo un mentore che mi insegnava al modo migliore di scrivere una sceneggiatura e tutti noi abbiamo avuto comunque dei professori e dei maestri che ci hanno insegnato qualcosa più o meno buoni però qualcosa ci hanno insegnato tutti. E veramente, c'è veramente necessità di dirle queste cose? Non lo so. Lui voleva fare un discorso logico e l'ha detto però io mi sono soffermato su quel punto lì e ho detto è veramente necessario doverlo dire questa cosa? Evidentemente sì. Andiamo avanti. Sinergo continua col suo discorso e dice che lui non legge i libri o non fa dei corsi di vignomaking per rimanere aggiornato nel suo lavoro ma si informa su internet. E dice anche che a volte quando racconta che lui si informa, si aggiorna su internet molti gli dicono però devi stare attento, Sinergo perché su internet ci sono anche molte dichiarazioni molte notizie false e lui dice a me questo mi ha fatto pensare che allora tutti credono non è così ovviamente però tutti credono i più tanti credono la gente crede che invece nei libri ci sia la verità assoluta cosa che ovviamente non è vero e qui lui si agita si scalda e per provocare dice allora in seconda media in seconda elementare in realtà facciamo leggere il Maykampf no? Tanto è un libro cosa potrà mai succedere? Questa è ovviamente una provocazione però a me questo mi ha fatto pensare un'altra cosa ovvero che sì è vero nei libri non c'è la verità ci sono dei libri giusti dei libri sbagliati ma questo si può dire anche del cinema uno dei primi film importanti nella storia del cinema nel 1915 è un film di Griffith che è nascita di una nazione primo film uno dei primi film non il primo ma uno dei primi film a poter essere chiamato tale ovvero film perché aveva un montaggio aveva una regia aveva una tecnica di linguaggio cinematografico ed è un film che esalta il KKK che denigra gli afroamericani che esalta i proprietari terrieri suddisti poverini che venivano massacrati dagli schiavi ormai liberati ed era un film che era imbarazzante era un film razzista ed era un film tremendo da questo punto di vista tecnicamente era perfetto ma era un film imbarazzante allora facciamo vedere anche questo film nelle scuole facciamo leggere il Mein Kampf e poi facciamo vedere questo film no non facciamo leggere il Mein Kampf ma questo non vuol dire che tutti i libri perché ce n'è uno sbagliato siano brutti e non vuol dire perché il cinema si basa su un film razzista tutto il film tutto il cinema sia razzista è un discorso un po' troppo semplicistico da questo punto di vista ricordiamo che in ogni arte in ogni tecnica in ogni momento in cui l'uomo mette lo zampino in qualcosa c'è tanta ombra quanta luce quanta se ne vede in quello specifico momento nella società ombre che ora sono ombre magari una volta erano luci e una volta e luci che ora sono luci magari un giorno saranno ombre è la società che si evolve e con lei si evolverà il cinema con lei si evolverà i libri ok? ma andiamo avanti Sinergo va avanti con le sue domande con le sue questioni una più interessante dell'altra comunque alcune mi hanno fatto arrabbiare alcune no ma sono qua perché ho trovato qualcosa in cui parlare veramente Sinergo va avanti con le sue domande e si chiede come mai nel passare del tempo il cinema non abbia raggiunto o superato il libro dal punto di vista propagandistico e dal punto di vista della divulgazione non specificando o non ricordandosi che comunque il cinema ha avuto il suo momento di gloria sul libro ovvero nei regimi totalitari del novecento perché mentre si bruciavano i libri si accecavano le masse con i film di regime in Germania e con i cine giornali in Italia una delle prime frasi che disse Mussolini arrivati al potere fu il cinema è l'arma più forte dello stato e perché perché attraverso il cinema puoi controllare le masse meglio che attraverso i libri ed è una cosa che vera tuttora ma infatti poi nel discorso ci arriveremo e del cinema fascista ne parleremo nel documentario che sto realizzando ci sto mettendo una vita perché sono da solo a realizzarlo prima o poi uscirà i pochi che mi seguono lo vedranno uscirà qua su questo canale e non so dirvi quando però questo non so proprio dirvelo tornando alla divulgazione e alla propaganda del cinema noi siamo costantemente bombardati dalla propaganda del cinema ma a differenza del libro che il libro devi fare due passaggi per leggere e capire un libro ovvero devi leggerlo devi leggere le parole quindi arrivare la parola deve arrivare alla tua parte più razionale la tua parte razionale deve tramutare quella parola in un'immagine che poi va sublimata in un'emozione ok quindi tu leggi fai una fatica porca a leggere però quello è quello che va a alimentare l'intelligenza di un essere umano e la sua cultura perché tu leggi ok quindi assimili una parola la parola arriva nel tuo intelletto l'intelletto la trasforma in immagine e quella immagine diventa emozione soprattutto se parliamo di un romanzo ma anche se parliamo in realtà anche di trattati storici via dicendo però questo lavoro ok va a far lavorare il cervello coscientemente ok non può passare un messaggio incoscientemente da un libro perché si ferma nel momento in cui ti fermi a leggere in un film invece no il film non è così il film passa direttamente per l'immagine quindi passa tutto attraverso l'immagine il suono e questo è molto più subdolo molto più subdolo perché se tu un messaggio lo fai passare più volte un messaggio non vero ad esempio lo fai passare più volte attraverso diversi film quel messaggio si va a depositare e diventa una verità ad esempio se io vi chiedo rimanendo sempre in tema seconda guerra mondiale se io vi chiedo chi sono stati due grandi protagonisti della seconda guerra mondiale secondo me molti di voi i più tanti probabilmente risponderanno germania e stati uniti ok quando non è affatto vero perché il lato più importante nella seconda guerra mondiale il lato che ha alla fine sconfitto il nazifascismo il nazismo in realtà il fascismo ormai era già andato già da un po' è stato il lato orientale sono stati i russi perché sul lato orientale ci sono stati più scontri fra nemici fra germania e russia ed è stata la parte in cui i tedeschi hanno raggiunto il collasso prima ora voi ditemi quanti film avete visto sulla seconda guerra mondiale con gli americani e ditemi quanti film avete visto con i russi ecco lì che vi hanno fatto una propaganda attraverso il cinema vi hanno fatto credere una cosa che non era vera o perlomeno era vera ma solo in parte bisogna stare attenti al cinema è qua che stiamo arrivando al messaggio di Sinergo bisognerebbe imparare è vero bisognerebbe imparare a leggere il cinema ma Sinergo forse si va a focalizzare sulla cosa sbagliata va a prendere come caprio espiatorio la cosa sbagliata ma adesso ci arriviamo Sinergo va avanti nel suo discorso e racconta di quando lui faceva il liceo artistico e che al liceo artistico non c'era l'ora di musica e l'ora di cinema che è agghiacciante effettivamente io non lo sapevo ma è agghiacciante agghiacciante il fatto che all'artistico uno non studia musica e non studia cinema che sono comunque due arti anzi il cinema è quella che le comprende tutte ma ci arriviamo qua arriva qua Sinergo arriva a dire una frase che è quella che mi ha spaventato di più quella che mi ha lasciato più triggerato più male ok quella che forse mi ha dato anche la spinta di fare questo video io volevo rispondere sotto al video poi ho detto no ci faccio volevo rispondere sotto il suo video poi ho detto no ci faccio un video mio che così butto fuori meglio ed è quella che dice che lui pensa che l'umanità a parte che usa la parola umanità che non ha senso perché ci sono tanti tipi di umanità l'umanità è troppo legata al vecchio lui dice vecchio intendendo tutte le arti antiche ovvero il teatro la pittura la forse anche la scultura forse anche l'architettura comunque tutte quelle arti che hanno una storia molto antica la poesia la narrativa il libro di nuovo riprende come caprio spiatorio del problema il libro quando un povero libro non ne può niente è la società il problema nostro è la società ma Sinergo lo sa e non voleva dirlo perché ma io posso dirlo lui non può dirlo ma io posso dirlo perché lui ha un sacco di di iscritti e farebbe incazzare un sacco di gente io al massimo ne faccio incazzare tre o quattro quindi per me non è un problema dirlo il problema nostro è la società e ora ci arriviamo a questo discorso ma facciamo un attimo un passo indietro sulle arti allora Sinergo prende come caprio spiatorio le arti antiche ovvero la pittura la scultura e via dicendo l'ho già detto senza considerare che però il cinema ne viene proprio da queste arti antiche perché antiche perché il colore e la luce proprio come mettere le luci come illuminare una scena il cinema lo impara dalla pittura se voi guardate un quadro ci sono le parti in luce le parti in ombra e quella cosa lì è la stessa cosa che si fa su un set per illuminare bene un attore o una scena non come io che ho messo una luce sotto l'ascella ecco io le luci le metto malissimo mai messe bene le luci infatti c'ho i DOP che mettono le luci cosa stavo dicendo è da qui che il cinema ha imparato a usare i colori a usare le luci come ha imparato a fare le grandi scenografie specialmente nel cinema muto di un tempo ma ancora oggi vengono usate come ha imparato a fare le scenografie dall'architettura perché le stesse le stesse leggi che valevano 300-600 mille anni fa per costruire una cattedrale adesso vengono usate per costruire le scenografie cinematografiche la stessa cosa la recitazione la recitazione ne viene ancora prima della scrittura ne viene già dal teatro dal teatro greco no prima della scrittura no però siamo quasi a pari passo con la scrittura con la tragedia perché i greci mettevano in tragedia tutto quello che non capivano o tutti i problemi che avevano e cercavano di risolverli li mettevano in scena ed è forse l'unica cosa che il cinema fa ancora a volte in quel cinema che ormai però sia un po' perso quindi il problema non è il libro non è la scultura non è la pittura non è il cinema il problema è la società la società che ci vuole tristi e ci vuole ignoranti perché i felici edotti sanno di cosa parlano sanno cosa gli succede intorno se serve fanno la rivoluzione se serve cambiano tutto se serve tagliano le teste invece i disperati ignoranti i tristi sopravvivono non hanno il tempo di farsi una cultura non hanno il tempo di ragionare perché devono sopravvivere e la sopravvivenza viene prima di tutto la sopravvivenza viene prima della cultura la sopravvivenza viene prima della politica viene prima di tutto se noi non sappiamo chi è Napoleone se noi non sappiamo chi è Platone se noi non sappiamo chi è Leonardo da Vinci che cosa hanno fatto come hanno cambiato questo mondo come possiamo pretendere di sapere dove stiamo andando se la gente ha fame se la gente deve deve fare quattro lavori per riuscire ad arrivare a fine mese come fa a capire quanto sia di valore un film come possiamo come possiamo come possiamo pretendere che le persone vadano al cinema a vedere un film in cui viene lanciato un messaggio quando la maggior parte della gente va a vedere Revenant perché c'è Leonardo Di Caprio senza togliere niente Leonardo Di Caprio grandissimo attore invece di andarla a vedere perché è stato girato dai Naritu e non sa neanche chi è il regista non sa neanche la storia del regista ho detto Revenant per fare un esempio o la gente va a vedere i Marvel e gli scambia per cinema senza aver mai visto un film degli anni 70 come non lo so un uomini incontro un uomini incontro con Gian Maria Volontè sulla prima guerra mondiale sulla vita da cani che facevano i soldati italiani al fronte nella prima guerra mondiale film l'ultimo che ho visto uno degli ultimi che ho visto e che mi viene in mente è giusto uomini contro oppure un film degli anni 40 come può essere Roma città aperta o qualunque altro film che ne venga dal dopoguerra come facciamo a pretendere che la gente conosca il film come facciamo a pretendere che la gente capisca queste cose se non ha il tempo di andare al cinema se le piattaforme stanno vincendo la guerra e nessuno va più al cinema come facciamo il nostro cinema il cinema che conosciamo noi oggi arriva nasce nel primo dopoguerra ok nasce dopo la la fine della prima guerra mondiale l'inizio del novecento il cinema mutuo italiano era il cinema che veniva visto in tutto il mondo era il cinema più potente del mondo perché parlava di qualcosa di meraviglioso parlava della nostra cultura parlava dell'antica Roma parlava dei nostri del risorgimento parlava una lingua che era internazionale nel senso quella dell'onore dell'orgoglio dell'arte ok alla fine della prima guerra mondiale questo cinema decade per mille motivi che non starò qui a dire e diventa il cinema italiano viene sostituito dal cinema hollywoodiano dal cinema americano che mette su uno star system che noi avevamo inventato prima con le dive loro li riprendono creano uno star system tolgono completamente la cultura perché il cinema americano non si interessa di cultura tendenzialmente ovviamente poi stiamo facendo di tutta l'erba un fascio che non non l'abbiamo mai fatto ma lo facciamo per andare un po' più veloci il cinema americano che non si interessa la cultura se non dove può tirarci fuori dei soldi ma nel cinema non serve avere la cultura perché allo spettatore non interessa pensare quando guarda un film interessa delle immagini quindi il cinema americano dice io ti vendo un'immagine mica un concetto intanto tu non vuoi pensare tu vuoi anestetizzarti tu vuoi arrivare a casa stanco dal lavoro accendere una piattaforma qualsiasi e anestetizzarti ti siedi lì ti guardi per due ore un film o tre ore un film non pensi guardi le immagini io magari ti parlo sotto ok ti inculco nella testa cose che tu non vedi perché intanto tu sei stanco sei lì che guardi la storia avvincente del nuovo supereroe o del nuovo eroe o della nuova eroina nera ma intanto io scavo sotto tu guardi le cose principali guardi davanti e non guardi dietro io intanto scavo sotto e tu sei tutto contento tu mi paghi l'abbonamento non vuoi al cinema dove potresti avere un confronto con qualcun altro a guardare lo stesso film magari uno ti dice io ho notato questo ho notato quello e su questa cosa qua ci torneremo alla fine del video e te ne stai lì ti guardi il tuo film magari ti addormenti a metà oppure giochi col cellulare oppure se sei con con l'amorosa metà firme stacchi perché fai dell'altro e e basta e questo è il cinema dei giorni moderni Sinergo dice perché il cinema è rimasto lì perché il cinema è rimasto una cosa nuova dice siamo rimasti al tempo del del treno che arriva e fa scappare la gente una magia non è diventato un mezzo culturale ma è ovvio che non è diventato un mezzo culturale il cinema è giovane il cinema ha poco più di 100 anni la stampa è nata un po' prima cioè la stampa nasce con Gutenberg nel 1455 il cinema nasce con i fratelli di Mimèri nel 1895 fra la stampa e il cinema ci passano 440 anni se i conti sono fatti bene io sono 440 anni io in matematica sono una bestia e non solo in matematica e quindi è ovvio che il cinema ma anche con la pittura la scultura il cinema è arrivato ieri per il passaggio dell'umanità il cinema è arrivato veramente ieri non si può pretendere già che il cinema si prenda un piedistallo così enorme non si può non si può non possiamo fare come fa Frollo in Notre Dame de Paris che tocca il libro o indica la chiesa indica Notre Dame gli dice il libro ucciderà l'architettura e non siamo ancora arrivati al punto in cui il film ucciderà il libro guai guai è un passo che è troppo ampio dobbiamo ancora fare un sacco di passaggi dobbiamo ancora farlo diventare un'arte il cinema dobbiamo anche ricapire cosa vuol dire arte e cosa vuol dire cultura perché a metà della gente che ci circonda legge un libro e non capisce cosa dice se ci fai vedere un film leggermente più complicato non lo capisce il problema è la società non è il libro il problema non è la scuola cioè la scuola è fonte di problemi ma perché chi ci governa è il problema e non sto parlando di chi ci governa adesso qui sto parlando degli ultimi 100 150 anni ok della visione del mondo che stiamo portando avanti che non sta ristruggendo soltanto il nostro pianeta che quello lì è il minimo sapete la natura poi si rinnova da sola si dà una scrollata di spalle noi cadiamo tutti quanti e lei ricomincia come se non fosse mai successo niente alla natura di noi non ce ne frega assolutamente niente il problema è che noi stiamo distruggendo noi stessi stiamo distruggendo questo discorso viene fatto sia dal punto di vista della cultura occidentale sia dal punto di vista della cultura umana ci stiamo autodistruggendo e ci stiamo autodistruggendo proprio perché non abbiamo più la cultura non abbiamo più la visione del mondo non abbiamo più la visione di dove ne veniamo e di dove stiamo andando o perlomeno la massa non ce l'ha forse la massa non ce l'ha mai avuta però si sta sottigliando di nuovo quella patina di gente che gli studiosi che potevano fare qualcosa per migliorare questa situazione si sta sottigliando e questo nostro cinema ha l'unica filosofia perché? perché questo cinema il nostro cinema è un cinema di intrattenimento è un'industria del cinema e perché dico questo? perché il nostro cinema il cinema che vediamo noi adesso non è arte è un'industria l'industria del cinema il cinema che noi vediamo al cinema e sulla piattaforma adesso è un prodotto come sono un prodotto la scarpa il cellulare la borsa niente di più niente di meno è freddo è fatto per essere consumato se tu guardi due film se tu guardi due volte lo stesso film su una piattaforma stai facendo perdere soldi alla piattaforma perché non stai consumando stai guardando è diverso la piattaforma vive se tu consumi sempre roba nuova perché se tu consumi roba nuova lei può produrre del nuovo e cos'è la filosofia la politica dietro a questo che è la stessa filosofia politica che c'è dietro a un cellulare o a una scarpa o una borsa è il capitalismo puro è il consumismo puro perché se non c'è consumismo non c'è produzione se non c'è produzione il 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 popolo se non c'è produzione l'occidente si ferma l'occidente muore noi stiamo correndo verso un burrone senza neanche accorgercene e il cinema è uguale e il cinema fa la stessa cosa sta correndo verso un burrone senza neanche accorgersene o forse se ne stanno accorgendo ma vogliono tirare via l'ultimo l'ultimo dollaro prima di lasciar perdere è questo il discorso che deve farsi in ergo e che non può farlo perché c'ha troppi iscritti e si incazzerebbero tutti invece io posso farlo perché al massimo faccio incazzare quattro persone che tolgono il seguito ed ecco lì tanti saluti però mi ha fatto ragionare mi ha fatto piacere questo video di sinarico mi ha fatto piacere mi ha fatto arrabbiare che è una cosa che succede pochissimo perché io prendo abbastanza tutto sotto gambe invece mi sono proprio arrabbiato voglio dire che mi ha preso nei punti deboli nei punti sensibili mi fa piacere motivo siamo arrivati a farci un video sopra non è da poco vi giuro se quei 4-5 che mi conoscono che mi seguono mi conoscono bene non è da tutti riuscire a farmi incazzare in questo modo incazzare nel senso prendermi così profondamente da mettere sulla telecamera questo video qua non so come verrà se verrà più brutto del solito perché sto proprio andando a pancia sì mi sono preso un po' di di opzioni per non dimenticarmi di tutto però è tanto tanto di pancia tanto di pancia e quindi è questo il problema del cinema nostro il problema è culturale considerando il cinema un'arte considerando il cinema culturale considerando il cinema la con la possibilità di diffondere un messaggio è un casino è un casino la nostra società è un casino dove viviamo noi non tanto il cinema ma non tanto il libro non tanto la scultura non tanto la pittura è un casino il nostro modo di pensare che sta portando tutto questo allo sfascio tutto adesso quando uno diventa famoso la prima cosa che fa gli scrivono perché non è mai lui che lo scrive gli scrivono un libro e quello è il mercato editoriale ed è uguale a quello del cinema perché quei libri li sono vuoti sono vacui quanto la cosa vuoi che ci sia scritto dentro quei libri eppure vengono venduti e vengono fatti perché? perché il denaro vince su tutto vince anche sulla cultura siamo americani fino in fondo da questo punto di vista ormai una volta non era così parlando dell'ultimo messaggio che dà Sinergo prima di chiudere il video che racconta di come a scuola quando andavo a scuola gli facevano magari vedere un film e poi dopo il film gli facevano fare un tema su cosa hai visto nel film raccontami il film cosa succede nel film e diceva ma perché non mi facevano tagliuzzare il film in mille pezzi come mi facevano fare con le poesie ti avrei voluto capire perché c'era quella inquadratura perché c'era quel suono quella quella immagine perché il cinema per la scuola almeno per una volta io adesso a me me lo facevano fare adesso non so se lo fanno fare più il cinema era molto potente dal punto di vista psicologico più di una poesia poesia era un bagaglio culturale tuo che ti dovevi portare dietro e che dimenticavi esattamente dopo tre ore che eri uscito da scuola al massimo tre ore già tanto il cinema no il cinema serviva ai maestri ai professori per conoscerti perché se x e y vanno al cinema e qua ci riattacchiamo il discorso che vi facevo prima se x e y vanno al cinema e vanno a vedere lo stesso film sono in sala insieme e guardano lo stesso film vedranno due film diversi perché tutte e due baseranno il film su la loro vita precedente su quello che hanno vissuto prima di entrare in sala non lì proprio da zero anni a quel momento quello lì è il loro bagaglio culturale quello lì è il loro pregiudizio sulla vita e sugli altri e lo riverseranno tutto dentro le immagini che vedono quindi quando chiederai a x e y che film avete visto loro due ti parleranno di due film completamente diversi e parlando di due film completamente diversi parleranno di se stessi racconteranno se stessi quindi è un circolo quindi quando tu scrivevi il tema per la maestra cosa facevi? raccontavi te stesso e se la maestra era abbastanza brava da leggerlo da leggerlo quel tema quello che c'era all'interno del tema da leggere tra le righe poteva conoscere l'allunno che aveva davanti ora non so se lo fanno più ma una volta lo si faceva io mi ricordo che mi facevano scrivere i temi sui film andavamo a vedere un film e poi mi chiedevano cosa hai visto in questo film e io raccontavo me stesso attraverso il racconto del film per questo ci facevano raccontare i film perché era una potente arma psicologica per conoscere gli allunni che avevano davanti non a caso non a caso veniva fatto non a caso certamente non c'era la cultura del cinema certamente non c'era la cultura di chiedere perché quel film era fatto così ma perché non era importante per loro era più importante farti scrivere di cosa parlava quel film dal punto di vista psicologico basta mi sto incartando per i pochi che mi seguono ci vediamo al prossimo video che probabilmente sarà il documentario sul cinema nazifascista o forse no non lo so perché è molto lungo ma qualcosa arriverà sicuramente questo video è bruttissimo molto lento antipatico forse mi sono anche un po' antipatico da solo ma mi sentivo di farlo lo montiamo e ve lo diamo in pasto vi aspetto nei commenti so che non verrete ma vi aspetto nei commenti e basta ciao grazie a tutti Grazie a tutti.